Una novità recentissima che parla di rispetto e di amicizia, dell'importanza di accogliere e di aspettare i tempi dell'altro, quindi molto interessante in situazioni dove ci sono bambini nuovi o dove c'è della timidezza, questa storia fatta dove tanti animali trovano nel bosco una scatola, una scatola arrivata con gli occhi, una scatola che ospita un altro animaletto, loro sanno subito che c'è qualcuno e cercano un modo per far venire voglia a questo animaletto di uscire, da qui lui non vuole uscire, si capisce che è timido o ha paura, c'è qualcosa che non va, infatti dice no! E loro cercheranno di convincere in tanti modi, modi molto silenziosi e molto accoglienti, prima facendo una piccola festicciola e dicendo dai vieni a festeggiare, poi lo aspetteranno finché non sarà la protezione, cioè inizierà a piovere, gli animali porteranno via la scatola per proteggerla, vedete che la portano via sotto la pioggia abbracciandola, a questo punto l'animaletto che è un piccolo pappagallo deciderà di uscire, accetterà l'abbraccio, è una frase bellissima che viene detta proprio in questa pagina, lui dice grazie per avermi aspettato e gli animali dicono non sappiamo cosa ti sia successo, ma sappiamo che anche un filo d'erba diventa storto se battuto dal vento o dalla pioggia, tu avevi solo bisogno di noi, quindi qualunque cosa ti sia successa, in qualunque modo tu sia, ma soprattutto qualunque realtà da cui tu vieni, noi siamo qua per proteggerti e abbracciarti e quindi appunto stanno tutti insieme perché l'unica cosa importante è davvero avere un amico bellissimo. bellissimo.